Ciao! Allora, sono tornata di nuovo con un nuovo video. Mi presento con un video proprio sciallo, tranquillissimo, che sono i prodotti che ultimamente ho finito. Allora, iniziamo subito. Il primo prodotto è questo struccante che è fantastico, l'avrete già visto, ve ne ho riparlato troppe, troppe volte. Poi, quindi senza che mi metto a rispiegare che funziona, bla bla bla. L'ho preso all'Ocean, ed ha un odore fantastico. Poi, ho finito questa spuma della Nivea, che mi ci sono trovata benissima, volume sensation, extra forte, azione doppio volume, numero 4. E' fantastico, soprattutto per l'estate che non voglio... che l'ho già ricomprato, lo sto usando per s'estate, per queste sere che fa caldo. Se no, vabbè, anche per l'inverno, quando voglio avere un... lasciarli, diciamo, usando il diffusore, ecco. Quindi, per avere più volume. E' fantastico. Poi, poi, poi... questo struccante, che in pratica è l'acqua micellare della Venus, che è fantastica, che tra l'altro io ne ho ricomprato un'altra, che è a metà. Cioè, questo struccante è una cosa pazzesca. Cioè, veramente, forse dovrei fare un video a parte, non so se lo volete, ma questo è fantastico. Ve lo consiglio tantissimo, perché strucca come si deve, è uno struccante da 110 e lovia, perché... cioè, fa paura. Basta un attimo che, soprattutto con il mascara, almeno io sto le ore a mettermi il mascara, quindi per levarlo ci vuole sempre mezz'ora a soffinare. Invece con questo basta che sto, diciamo, 10-15 secondi, mi addormento così un attimo. E poi strucco, ma che... fa paura, cioè, veramente, io ve lo consiglio. Non viene nemmeno tanto, d'acqua e sapone viene sui 3... 3-4 euro, massimo, 4 e qualcosa. Poi, ultimi 3 prodotti. Allora, questo qui, che è forse uno dei primi, vabbè, è il... penso lo conoscete tutti, Long Lasting Color Lip Maker, della Kiko. C'è ancora un pochino, ma... non è... non più di tanto, vabbè. Comunque, anche questo è fantastico, colore eccezionale, mi ci sono trovata bene. però l'unica cosa è che dopo un po' si scarica. Cioè, perché ti scarichi? Vabbè. Poi, un'altra cosa della Kiko è questo burro cacao, che ormai non riesco nemmeno a prendere più, che è fantastico, anche questo, ma dai. Lip Balm Protezione SPF 15, cioè, veramente, un burro cacao d'eccezione. E poi, come ultima cosa, questo, che non mi ha fatto... mi è piaciuto, ma non mi ha fatto impazzire, soprattutto l'ultimo periodo. Quando si secca, cioè, diventa grumoso, cioè, è orrendo. Per i primi tempi, giusto le... fino alle... fino a quarta, quinta applicazione, è micidiale. Fantastico. Poi, mi è iniziato un po' a stufare, lasciavo i grumi, ricacciavo il... lo scovolino, ed era tutto appiccicoso. ci ho provato a mettere l'acqua detergente per... per le lenti, ma... ha solo peggiorato la cosa. Quindi è tutto... troppo papposo. Non mi è piaciuto. Quindi questo... no. Niente. Questi erano i miei prodotti. Volevo tornare a fare un nuovo video, visto che è tanto che non li faccio, ma... non so se interesserà a qualcuno. Non faccio video perché non ho ispirazione. Quindi se voi volete vedere un video in particolare, un qualcosa di... non lo so, come passatempo, qualunque cosa che duri dai 2 ai 24 ore, dai 2 minuti alle 24 ore, fatemi sapere perché veramente... non ho ispirazione. Niente. Sotto nell'info box vi lascio come sempre Facebook, Instagram, tutti i social, se volete seguirmi. e in più troverete Depop. Per chi non conosce Depop, è un'applicazione che... puoi vendere e comprare qualsiasi cosa. Mi trovate anche su Depop, quindi vi lascio sotto il... il nick, tutte le varie cose. Così se poi volete vedere qualcosa, bla 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 bla. Vi dando un bacio. Ciao!